E' quasi certo che la montagna teramana riaprirà per la stagione estiva. L'azienda dei fratelli Persia è in procinto di acquistare gli impianti di risalita di Prati di Tivo e Prato Selva. Il contratto si firmerà a fine maggio. La provincia di Teramo incrocia le dita, la fase è delicata, l'amministrazione spera che tutto si concluda bene e senza complicazioni, ma andiamo per ordine. L'Assemblea dei Soci della Gran Sasso Teramano si è riunita nella Sala Consigliare della provincia e ha deliberato di fissare entro non oltre il 26 maggio la data per la firma dal notaio della vendita della società GST, proprietaria delle infrastrutture sciistiche. Decisione adottata sulla base della conferma ufficiale inviata dalla ditta Persia Costruzioni di voler acquistare i beni per un importo di 1.520.000 euro, proposta corredata da un assegno circolare di 100.000 euro a titolo di deposito cauzionale. Inoltre la ditta Persia, previa d'esamina dello schema d'atto, si è impegnata a presentare apposita garanzia fideiussoria il 23 maggio prossimo. Tutto molto fluido, ma non è ancora detta l'ultima parola. Infatti l'imprenditore marchigiano Marco Finori, custode e gestore temporaneo degli impianti e che non ha inteso onorare l'impegno di acquisto, nonostante avesse vinto il bando pubblico, ha ora 30 giorni di tempo dal perfezionamento dell'acquisto da parte dei fratelli Persia per la riconsegna dei beni. Quando i Persia diventeranno definitivamente proprietari delle infrastrutture del comprensorio sciistico del Gran Sasso, gestiranno anche la cabinovia, almeno fino al 2029, che resta però di proprietà della provincia di Teramo. Siamo dunque al giro di Boa. Tornare presto sulle cime del Gran Sasso, partendo dai prati di Tivo e da Prato Selva, è l'auspicio di un'intera comunità.